Con queste tattiche, Anders Vergang, il piccolo pro player fenomeno danese, ha vinto il primo torneo competitivo della stagione. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Come detto nell'intro, oggi ci andiamo a spizzare le tattiche di Anders. Ed è un qualcosa di assolutamente incredibile, tra virgolette, visto che lui le tiene sempre super segrete. È vero che in questa prima fase della stagione è più rilassato, perché al primo torneo è stato invitato, quello che si giocherà a Londra, eccetera, eccetera. Però durante la sua prima streaming competitiva di quest'anno, che ha partecipato ad un torneo che ha vinto, se le è fatte sfuggire. Quindi oggi ce le andiamo a guardare bene insieme. Parliamo di questo modulo che secondo me al momento è uno dei più forti su FC24. E ci sono anche delle chicche, soprattutto per quanto riguarda le istruzioni, che meritano di essere approfondite. Il modulo di cui sto parlando è il 4-4-2 in linea, quindi quello classico, dove abbiamo i due centrocampisti centrali che sono CC e non CDC. Quindi non sono proprio schiacciatissimi davanti alla difesa, ma servono a costruire una linea un po' più compatta assieme agli esterni. E che sono fondamentali poi per dare una mano per le nostre ripartenze. Come al solito, andiamo a vedere quelle che sono le caratteristiche peculiari dei giocatori ruolo per ruolo in una formazione come questa. Partendo dalla difesa. Difesa che per me, partendo dai difensori centrali, deve vedere schierati due difensori complementari. Che significa complementari? Quest'anno ve ne ho parlato anche nel video dei playstyle. Per me è fondamentale avere un difensore che abbia il playstyle dell'anticipo, ovvero il procione, e l'altro che invece abbia il blocco. Per quale motivo? Perché così con uno possiamo andare a utilizzare un po' più di CPU all'interno dell'area di rigore e affidarci agli autoblock. Con l'altro invece possiamo andare un po' più a caccia di recuperare il pallone, sia belli potenti dentro l'area di rigore, ma anche magari con qualche uscita un po' frizzante al di fuori. Quindi per me è fondamentale avere una coppia di questo tipo. Meglio se i due playstyle in questione sono playstyle dorati, ma anche qualora magari ce l'avessero argento, uno dei due va benissimo uguale. L'importante è che abbiano questa combo affinché si vadano a completare alla perfezione. Per quanto riguarda i terzini, qui viene meno un po' quella componente di spinta, perché nel 4-4-2 i terzini magari sono un po' più legati ai compiti difensivi, quindi andiamo a prendere due difensori rapidi e anche abbastanza abili nel recupero palla, come Walker e in questo caso io utilizzo la Rolfo, che non è proprio il miglior terzino del mondo, perché non è velocissimo ed è comunque 1,78m. Io lo giocavo centrocampista nel rombo che vi ho fatto vedere l'altra volta e rendeva benissimo. Anche in questo caso rende abbastanza bene, però magari qui ci potreste mettere tranquillamente un Mendy per avere maggiore copertura in fase difensiva. Veniamo alle nostre due mezze ali, i nostri due CC. Anche in questo caso la coppia deve essere complementare, quindi da una parte dobbiamo avere un centrocampista un po' più completo, che ti fa bene entrambe le fasi, come un Bellingham per dire, o magari se penso ad un centrocampista di un altro campionato potrebbe essere tranquillamente un Tonali o anche magari un Rabbio se vogliamo scendere sull'economico di una Serie A. Dall'altra parte invece è un centrocampista un po' più offensivo, che supporta maggiormente la manovra e che magari sia dotato anche di playstyle di passaggio interessanti, come De Bruyne che ha il filtrante, che è fondamentale per azionare i nostri esterni e le nostre due punte che partono in profondità. Chiaramente qualora magari avete un po' più di difficoltà, potete anche scegliere per due centrocampisti un po' più difensivi, però così come per i difensori centrali, credo che una coppia complementare sia la soluzione migliore. Sugli esterni, ovviamente neanche a dirvelo, andiamo a prendere due giocatori molto rapidi, tecnici, ma che sono in grado di finalizzare, perché i nostri esterni spesso andranno a chiedere alle punte il classico gioco da pivot per andarsi ad inserire e ovviamente dentro l'area di rigore abbiamo bisogno di due giocatori che se si ritrovano a calciare in porta sono pericolosi, perché altrimenti l'avversario ci va a nozze. Per le punte, stesso discorso un po' con gli esterni, abbiamo bisogno di due attaccanti veloci, tecnici, almeno quattro di piede debole, voi direte sì Rashford c'ha tre, però questo passa per il convento, meglio ancora se abbia la quinta skill in maniera tale da essere ancora più imprevedibili. Io poi preferisco anche per le punte avere un attacco assortito in maniera complementare, per cui avere un attaccante un po' più fisico e uno invece un po' più piccolino come la Putejas che si gira e manda al manicomio i difensori centrali. Quindi questo per quanto riguarda i giocatori da andare a selezionare per quanto riguarda il 4-4-2. Ma veniamo a noi, passiamo alla parte più succosa del video, quella che stavate aspettando, ovvero quella delle tattiche e delle istruzioni. Partiamo dalla difesa, come al solito adottiamo uno stile di gioco equilibrato, visto che quella sorta di pressing in mezzo al campo ve la fanno uguale, un'ampiezza di 50 perché il 4-4-2 è comunque un modulo largo, per cui lasciamo un'ampiezza predefinita per non alterarne gli equilibri, è una profondità di 70. Perché di 70? Perché ci fermiamo ad uno step prima del 71, che come potete ben vedere dall'informativa che c'è a destra, farebbe aumentare la profondità e il baricentro della nostra squadra un po' troppo. Quindi preferisco invece rimanere con questo assetto abbastanza bilanciato, che però non è neanche troppo basso, quindi possiamo anche permetterci di recuperare palla e ripartire in contropiede alti e non solo di giocare dentro la nostra area di rigore. Per quanto riguarda la costruzione della manovra, abbastanza basic, perché utilizziamo equilibrato, passaggi diretti che ormai abbiamo imparato a conoscere, mentre per l'ampiezza lasciamo anche in questo caso 50. Quello che andiamo a modificare non sono i giocatori in aria, perché rimaniamo standard su 5, perché va benissimo con il 4-4-2 a livello di inserimenti, e quello che invece andiamo a fare sugli angoli, perché andiamo a mettere uno di angoli e uno di punizioni per evitare scomodi contropiedi e tra l'altro a breve vi sto cucinando un bel tutorial su calci d'angoli, calci da fermo, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere adesso le nostre istruzioni, istruzioni che sono, ripeto, abbastanza interessanti. Per quale motivo? Ci sono delle novità. Sui difensori centrali lasciamo ovviamente resta di treno attacco, quindi tutto quanto standard. Sui nostri terzini resta di treno attacco e sovrapponiti, come al solito, perché così il nostro terzino non taglierà per via interna e ma per via esterna, dando la diagonale, la possibilità di poter aggirare il terzino avversario e creare superiorità. Quindi, mi raccomando, sovrapponiti e resta di treno attacco. E non pensate che quel sovrapponiti ve li fa partire, non è assolutamente così. Mentre per i nostri centrocampisti centrali vado ad utilizzare resta di treno attacco e copertura al centro per entrambi. Qualora ve la sentiate e volete invece avere un assetto un po' più spregiudicato, mi andate a mettere sul centrocampista più tecnico, semplicemente copri al centro, quindi senza resta di treno attacco, attacco equilibrato. Dove sono le novità? Le novità iniziano qui, a partire dagli esterni. Per quale motivo? Sugli esterni noi andiamo a selezionare, rientra in difesa, taglia dentro, entra dentro per il cross e fin qui. E invece, come inserimenti di supporto, non andiamo a mettere inserisciti alle spalle, ma mettiamo accorcia su entrambi. E che cosa fa accorcia? Farà in modo che il nostro esterno verrà a dare una mano quando dobbiamo far ripartire l'azione, avvicinandosi al terzino e dandoci la possibilità di creare un triangolo, perché ipotizzate il terzino che viene incontro, palla scaricata al terzino, palla poi sulla mezzala più vicina, filtrantone verso l'esterno che ha fatto questo dai e vai con il nostro terzino. Quindi vi dà la possibilità di poter andare a guadagnare un sacco di campo e poi lo sapete che le azioni più pericolose si vengono a creare sempre dall'esterno verso l'interno. La magia succede sempre così con la classica scaletta che poi andremo a vedere per bene anche quest'anno nel tutorial dell'attacco. Per quanto riguarda invece le nostre due punte, andiamo ad utilizzare semplicemente rimani centrale e rientra in difesa. Anche qua, per quale motivo non vado ad utilizzare il rinserisciti alle spalle? Molto semplice, non voglio che i miei giocatori inizino a scarpar via perché se vanno a scappare via non mi ritrovo poi con l'appoggio quando sto con le mezze ali e mi vengono a pressare e perdo palla perché magari gli esterni sono troppo lontani. Quindi, lasciando attacco misto, voi in realtà ve lo andate a gestire voi il tipo di inserimento. Vi basterà schiacciare le 1 quando volete far partire la punta e vedete che sarà molto più soddisfacente perché così avete la punta più vicina e quando la volete far andare è anche un po' più imprevedibile perché vi siete voi a studiarvi bene il tempismo con cui mandarla e crearvi profondità. Perché mi raccomando, fate inserire la punta non solo se gliela volete dare ma anche banalmente per andare a dar fastidio all'avversario che per coprire l'inserimento del DC magari vi fa salire palla al piede con la mezzala e si vengono a creare poi gli spazi sia per gli esterni che per l'altra punta. Ragazzi, per questo video è tutto. Spero che queste tattiche vi piacciono e io le utilizzate nella prima ladder competitiva e mi sono trovato benissimo per cui fatemi sapere se le proverete e soprattutto come vi troverete. Vi ricordo che sono live tutte le mattine sulla piattaforma Viola iscrivetevi al canale che per me è molto importante io vi auguro una buona giornata, un saluto nel vostro Liberoschi e a presto, ciao!